Questa fabbrica è stata praticamente sviluppata alla fine del 2016 e finita nei primi mesi del 2017, inaugurata a fine di marzo 2017 e siamo entrati subito in produzione vendendo i primi fertilizzanti liquidi. Con la fabbrica Multiliquid abbiamo pensato di introdurre dei formulati innovativi da utilizzare in campagna sia nella fertilizzazione, quindi con la classica manichetta, sia con l'utilizzo e con la distribuzione delle botti aerolatrici o comunque altre applicazioni tipo botti aerolatrici applicate alla seminatrice che consentono contemporaneamente alla semina di distribuire il concime liquido. Lo stabilimento Multiliquid ha una capacità produttiva di 80-90 tonnellate al giorno. Nell'arco di un anno può arrivare a produrre a circa 8.000-9.000 tonnellate. Le nostre linee principali sono Nutrifield e Fertidea. Nutrifield che utilizziamo a pieno campo e Fertidea in manichette. All'interno della fabbrica Multiliquid c'è un alto livello di informatizzazione. Da un'unica postazione possiamo comandare ogni singolo macchinario. Nel nostro laboratorio facciamo un controllo subito di pH, conducibilità e densità. Una bottiglia da litro viene presa e portata al laboratorio esterno che ci fa i macroelementi come azoto, fosforo, potassio e calcio. Quando il prodotto è conforme, cioè quando le analisi ci vengono restituite il giorno successivo e il prodotto è conforme, quel silos, quel prodotto che abbiamo fatto, quel lotto, può essere venduto e mandato ai nostri clienti. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti.